la cerchi la cerchi con me cristiano esatto cristiano 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 te l'ho detto prima tu tieni cristiano 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 cerchiamo la stanza vengo io con te a cercare la stanza mi tolgo il cinturone tolgo via io ti voglio aiutare me lo tolgo guarda lo metto a terra vuoi darlo a me cristiano ti fidi di me cristiano cristiano guarda cristiano ti fidi di me vengo io cristiano 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 va tutto bene cristiano 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 non ti preoccupare cristiano cristiano ascoltami cristiano ci spostiamo un po' periodo grazie fermi 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 termini fermi fermi a posto a posto a posto a posto a posto Ragazzi allora, fatelo respirare, la sto mutando, la sto mutando, lasciatelo giù, ok, vai, vai, ok, controllatelo prima, Oh sono questa, è un Oh il mio cinturone, Ohwardessimo, Giusso, Giusso. Allarghiamoci. 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 Grazie.